Le grandissime doti del narcisista. Eh sì, perché avere una personalità narcisisticamente orientata significa avere delle doti, aver sviluppato delle capacità. E se non hai sviluppato queste capacità, questo è un problema. Perché? Perché quella struttura non funziona e diventerà una condanna alla sofferenza. Perché non riuscirà a tenerti lontano dalle angosce, dalle ansie, ti sentirai spesso depresso, spesso ansioso, angosciato e diventa qualcosa di... Quella struttura narcisistica diventa una gabbia veramente stretta, fredda e scomoda nella quale stare. La maggior parte delle persone che hanno una personalità narcisisticamente orientata devo dire tendono a sviluppare però queste capacità. La differenza tra personalità narcisisticamente orientata e narcisismo patologico, eccetera, eccetera, eccetera vai a vedertela nei miei video sul canale YouTube Narcisismo e Narcisismo e quelli sono i video gratuiti. Se vuoi approfondire, ci sono tanti video che non ci sono sul canale che non trovi sul canale che sono invece sul sito web, lapsiologiapositiva.it che fanno parte dei miei corsi su questi temi specifici. Quindi nel corso completo poi ci ho dedicato proprio dei moduli su questo e alcune cose devo darle un po' per scontate, ok? Ecco, quindi almeno i video sul canale sarebbe bene che poi li andassi a vedere se alcune cose non ti tornano. Ecco, allora, la questione è che se io sviluppo un forte narcisismo ecco, ho bisogno di sviluppare anche delle forti abilità e di questo se ne era già accorto Sidney Julius Blatt che inserendo il narcisismo nell'ambito diciamo, dello sviluppo della personalità introiettivo aveva evidenziato come che in quell'ambito lì tende ad avere delle doti cognitive più accentuate. Ecco, aveva notato questa caratteristica. Perché? Perché se io ho bisogno dell'ammirazione altrui perché il narcisista, la struttura narcisistica perché oggi il narcisismo è quasi diventato un'offesa la struttura narcisistica ha bisogno delle relazioni non è come quella schizzoide quella schizzoide è disinteressata alle relazioni non ne vuole sta bene da sola fa compiti che per gli altri sarebbero noiosissimi ecco, insopportabili in solitudine e quella noia che pesa come un macigno ecco, nello schizzoide ci sta bene perché da avere rapporti con qualcuno non gliene frega nulla non ha motivazione in questo e è insensibile al giudizio altrui ecco, la struttura narcisistica ha bisogno di un giudizio positivo dall'altro e deve mandare un'immagine positiva dell'altro e la deve talmente tanto mandare che alle volte si identifica con la maschera e perde di vista se stesso anzi, questo succede molto spesso e per ottenere quell'attenzione, quell'ammirazione per vendere comunque questa maschera positiva, questa immagine positiva ha bisogno di sviluppare delle doti e una di queste doti sicuramente è la persuasione per essere persuasivo devi essere un ottimo osservatore devi essere un ottimo ascoltatore quindi devi essere in grado di capire chi hai davanti con poco più di uno sguardo esserti fatto un'idea con una conversazione aver identificato alcune cose importanti per quella persona la profili e questo è molto importante è molto importante e quindi questa grande capacità osservativa poi si traduce molto spesso in un'abilità seduttiva oppure in un'abilità nel vendersi a livello professionale oppure un'abilità nell'essere un ottimo commerciale quindi un ottimo venditore e queste sono doti si possono giudicare positivamente negativamente nella nostra società sono delle grandi doti ecco che non tutti hanno anzi che hanno in pochi e effettivamente non ci sono dei grandissimi studi perché è difficile farli sul mondo del narcisismo ma effettivamente quando mi confronto anche con il mio team di lavoro notiamo che chi ha un orientamento narcisistico della personalità queste doti tende ad averle ben spiccate ma non sono le uniche che poi va a sviluppare ne va a sviluppare anche altre per esempio siccome io devo in qualche modo sminuire le critiche che tu fai a me ho bisogno anche di sviluppare delle capacità linguistiche nella conversazione e quindi avere tutte quelle abilità di risposta che ti sviano che ti sminuiscono i miei le mie magagne ingigantiscono le tue ok ecco e che dall'altra parte portano qualcuno a dire ma se ne rende conto che manipola ecco questa è una domanda importante perché il fatto è che queste doti che alcuni devono studiare per apprendere ok io ho dovuto studiare per apprenderle ecco ecco in una personalità narcisisticamente orientata molti di queste strategie linguistiche sono innate non sanno nemmeno usare è il loro modo di parlare io parlo così ecco e quando tu gli vai a dire tu mi stai manipolando è difficile da comprendere per quella persona perché io parlo così ti faccio questo esempio per capire meglio ecco non so se hai figli magari hai un nipote un cugino un bambino ti piacciono i bambini insomma tu prendi una persona che abbraccia suo figlio e lo tiene stretto stringere il tuo figlio è bello immagina che ci sia un'altra persona accanto che non sente niente cioè stringe il suo figlio non sente nulla niente come se stringesse una bambola di gomma o o o qualcos'altro o una ruota di un carro va bene uguale la persona che stringe il suo figlio sta bene comincia a dire a quell'altra ma te ma te devi provare qualcosa quando stringi il tuo figlio perché è bello e questa persona dice ma che vuoi da me cioè non vado bene così non ho mai provato cioè non ha mai provato quella sensazione non ce l'ha mai avuta è la normalità non avere quella sensazione ok ecco e poi quando ti vede che te un giorno sei sfinito sei sfinita e piazzi tuo figlio a guardare i cartoni animati e te ti metti sul cellulare a prendere una boccata d'ossigeno vedi vedi anche te fai come me ecco perché nel suo mondo è sempre così cioè non è in grado di comprendere la differenza quindi il suo modo di parlare è quello è fatto in questo modo e tu gli stai dicendo ah tu mi stai manipolando no io ti sto parlando come parlo sempre ed è la verità ed è la verità quindi anche qui praticamente stai aggredendo la sua identità e di fronte a un'aggressione alla nostra identità non c'è niente da fare ci difendiamo sempre e respingiamo sempre al mittente il primo istinto è sempre quello è il motivo per cui non funzionano gli spiegoni che vengono fatti da alcuni partner ai loro partner alle loro partner narcisisti narcisiste ecco quindi è proprio una caratteristica che loro hanno sviluppato per creare questa cortina fumogena che protegge da un'eccessiva autocritica che metterebbe in discussione quell'immagine e quella messa in discussione diventerebbe un po' ecco ecco l'unica cosa che posso notare è che nelle loro conversazioni l'altro sta male però poi vedono che ci resti e quindi alla fine vuol dire che te sei fatto così vuol dire che ne hai bisogno punto che ti vado bene in questo modo perché altrimenti non resteresti ecco questo è il modo di pensare giusto per spiegartelo ecco e la questione è che fondamentalmente questa abilità anche di questi schemi linguistici che adottano sono delle grandi abilità cioè non sono abilità di poco conto sono davvero delle grandi abilità e sono molto più abili delle persone medie cioè stanno molto sopra la media sull'uso di queste strategie ecco quindi queste sono sicuramente delle doti che devono essere sviluppate per mantenere per salvaguardare una personalità narcisisticamente orientata di qualità che svolga bene la sua funzione e che permetta alla persona di starci almeno un pochino comoda ecco all'interno di questa di questa struttura per la descrizione di questa struttura ti rimando ai video e ai corsi di cui prima fammi sapere se questo video ti è stato utile di questa struttura è stata utile